Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video volevo mostrare a me quelli che sono i miei chihuahua un piglio e un chihuahua qui vi faccio vedere anche le mie due, sono tre in realtà, una con la schiena nera e tutta bianca lei è la sorella di quella con la schiena nera e lui è il grallo questa qua è la piglia, si chiama Mascha Mascha! Eccola, è incinta è incinta, lui è topolino Anthony, che sta fa qua? lui è topolino lui è topolino come potete vedere il pappagallo, ora è messo con le gambe un po' fuori al pesco lui pali ciao a tutti ragazzi ci vedremo nel prossimo video che tratterà del mio crescito, ciao! 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 ciao!